Si torna a parlare della discussa sentenza in Corte d'Assise d'Appello all'Aquila per l'omicidio di Monia di Domenico, con la pena per Giovanni Iacone ridotta da 30 a 17 anni. Lo fa il noto psicologo, il professor Giuseppe Orfanelli, nel corso di un convegno sugli aspetti criminologici, penalistici e normativi della vulnerabilità delle vittime, diretta o indiretta, di atti di violenza, tenutosi stamane presso l'Aula Magna della Scuola di Polizia di Controllo del Territorio di Pescara. Se in un recente processo per l'omicidio di una mia ex assistente, tra l'altro, fosse stato ascoltato uno psicologo specializzato in criminologia clinica, ha detto Orfanelli, senza limitarsi alla relazione, seppure ottima, di un anatomo o patologo, forse i giudici sarebbero stati meglio indirizzati a confermare la condanna a 30 anni all'imputato, piuttosto che ridurla a 17. Sì, la figura dello psicologo è fondamentale perché, chiaramente, il consulente tecnico si è preparato, è chiaro, ci sono dei cardini di preparazione, per dare al magistrato la possibilità di, praticamente, di blindarlo nei confronti di quelle che sono le situazioni che si verificano, di qualsiasi ipotereato, sia di violenza sessuale sui minori, sia di maltrattamenti, sia di femminicidi, perché il criminologo poi nei femminicidi diventa fondamentale, perché con la criminogenese, criminodinamica, che riguarda il criminal profiling, mettiamo in condizione il magistrato di avere un'analisi specifica, anatomica, di quello che è successo. L'incontro, fortemente voluto dalla direttore della scuola, Francesco Zirilli, si inquadra in una serie di iniziative correlate all'attività didattica degli allevi del corso che trova meno di un mese e giunge alla conclusione. Tra i relatori l'ha sostituto a procuratore di Chieti, Giancarlo Ciani, che ha parlato degli aspetti normativi legati ai reati di maltrattamento e violenza sessuale è l'approccio più adeguato che le forze di polizia devono avere nel formulare le informazioni di reato, citando l'importante protocollo d'intesa della Procura di Tivoli sulla protezione delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere. È stata poi la volta del magistrato di Cassazione Aldo Aceto che ha offerto interessanti spunti anche rispetto al nuovo modo con il quale vengono formulate determinate sentenze, spesso oggetto di critiche, sottolineando i meandri all'interno dei quali sia la magistratura inquirente che quella giudicante devono inoltrarsi anche rispetto a una consapevolezza giovane della gravità di certi reati come quello della violenza sessuale, che solo dal 1996 è diventato delitto contro la persona quando invece prima era considerata delitto contro la moralità pubblica. Si è affrontato anche il tema della prevenzione, utile da questo punto di vista l'intervento della dirigente della sezione anticrimine e della Questura di Milano, Alessandra Simone, che ha illustrato i termini del protocollo Zeus, in base al quale a Milano l'ammonimento del questore per chi si macchia di maltrattamenti viene accompagnato anche dall'indicazione di uno specifico percorso di recupero. Un esperimento questo che sta dando degli ottimi risultati e che andrebbe implementato anche in altre questure.